Alte fiamme e fumo nella notte con un incendio che è divampato all'improvviso nella zona industriale di Ortona in Contrada Tamarete. Il rogo ha riguardato il deposito esterno della Ecotec, piattaforma ecologica che fornisce servizi e tecnologie per la gestione e la valorizzazione dei rifiuti da raccolta differenziata. Ecotec opera in tutto il territorio del centro sud Italia con raccolta, stoccaggio, smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da enti pubblici, aziende, industriali, artigianali e commerciali. Le fiamme per autocombustione hanno interessato un enorme cumulo di rifiuti derivanti dalla separazione dell'indifferenziato urbano con decine di tonnellate divorate in breve tempo. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 22 con le termotelecamere del sito che hanno rilevato l'incendio che si è sviluppato dal basso. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco, il personale Ecotec, il sindaco Leo Castiglione, l'assessore alla protezione civile Paolo Ceri, personale dell'Arta Abruzzo per la verifica della qualità dell'aria. Alle due del mattino il sito è stato messo in sicurezza. Le preoccupazioni hanno riguardato la nube che ha interessato le zone limitrofe data Marete, ovvero Contrada Fonte Grande, Villa Grande, Villa Deo, Villa Pincione, Villa Carlone. L'Arta renderà ufficiale ogni controllo per salvaguardare l'incolumità e la salute dei residenti di tutto il territorio, il primo cittadino Leo Castiglione. C'è stata sì una motivata preoccupazione da parte di tutta la comunità e in particolare del sottoscritto come massima autorità sanitaria, però ci siamo attivati subito, l'Arta è arrivata già ieri sera su mia richiesta dopo la mezzanotte per un primo controllo e questa mattina sono stati completati i prelevamenti, per cui siamo in attesa dell'esito, dei risultati che ci permetteranno di avere un quadro più chiaro. Nel frattempo io per precauzione, per tutelare la salute dei cittadini e di tutti i lavoratori della zona industriale, ho emesso un'ordinanza in cui ieri sera ho avvisato i cittadini di non aprire le finestre perché c'era questa nube che si era alzata anche in modo preoccupante, soprattutto per le zone limitrofe. Adesso invece ho emesso un'ordinanza che invita i cittadini a consumare ortaggi e frutta con tutte le precauzioni, quindi il rischio di cattivi odori, di fumi non esiste più, quindi non c'è bisogno più di tenere le finestre aperte, precauzione per quanto riguarda l'utilizzo appunto di ortaggi e verdure.